Mettiti in forma, rilassati, divertiti, stai con chi ti vuole bene e fai crescere tutti i tuoi sogni. La tua casa è un posto unico, proteggilo e proteggi chi ami. Higher Jade rileva automaticamente la qualità dell'aria, elimina il 99,9% delle polveri sottili, il PM10 e PM2,5, i pollini, batteri e muffe. Elegante, efficiente e silenzioso, diffonde aria purificata in ogni ambiente, sempre alla temperatura che desideri. Niente più inutili costi di manutenzione. Con Higher la qualità è all in Jade.